vogliono mettere la propria esistenza al servizio di questo Stato tanto bisdrattato, tanto scalcinato, di questo Stato a cui forse noi stessi qualche volta abbiamo dei dubbi nel poterne credere sino in fondo per quanto riguarda e per quanto attiene alla credibilità che questo Stato ha. Allora io credo che oggi venga sanata a posteriori e quindi purtroppo non potrà essere una sanatoria per tutti quei giovani che vengono dalla Sardegna, che vengono anche da tante altre regioni italiane, in modo particolare del Sud, dove la statura era inferiore rispetto a quella della media nazionale, credo che oggi si stia sanando in modo postumo un vulnus che non aveva più ragione di esistere. Credo che lo stiamo facendo in ritardo, credo che si debba dare merito a tutti i parlamentari che si sono battuti sino a oggi perché questo si realizzasse e ce ne sono diversi che vengono dalla mia Regione e credo che fare in fretta nel fare questo atto di sanatoria legittima e doverosa che purtroppo non potrà restituire il diritto a chi questo diritto l'ho perso, sia una cosa che questo Parlamento deve fare quanto più in fretta possibile. Grazie. La ringrazio. Adesso il collega Cirielli. Sì, Presidente, colleghi, questa proposta di legge finalmente arriva in direttura finale dopo una gestazione lunga che è partita dalla scorsa legislatura con un lavoro intenso fatto e portato avanti da tutte le forze politiche. Io avevo l'onore di presiedere la Commissione difesa in questa legislatura. Abbiamo fatto una lunga e approfondita indagine proprio perché il tema era controverso. Voglio cogliere l'occasione perché è giusto anche per la storia parlamentare ringraziare i colleghi, la collega Schirru del PD che è stata la prima presentatrice di questa proposta di legge nella scorsa legislatura e il collega Cicu che ha presentato non solo nella scorsa legislatura ma anche in questa ha rinnovato la sua proposta di legge. Personalmente, come Presidente della Commissione uscente, ho sentito il dovere in questa legislatura di presentare la proposta per come era stata approvata al seguito del lavoro svolto negli anni precedenti sul tema. Voglio dire che innanzitutto è una proposta di legge di civiltà. Ho sentito dire tante cose e credo che innanzitutto dobbiamo partire dai dati concreti. Si parla tanto di modernità dell'Italia, di civiltà giuridica dell'Italia. In realtà, anche da questo punto di vista, noi siamo molto arretrati. E lo siamo perché tutti gli altri Paesi principali, alleati, ma anche altri Paesi del mondo, non hanno ormai più il limite di altezza, ma si basano, come requisito per l'ingresso nelle forze armate, sui requisiti legati a parametri fisici moderni di capacità di affrontare la vita militare. E non è certamente un centimetro in più o un centimetro in meno che può dare questo aspetto. D'altro canto, se eserciti come gli Stati Uniti, l'Inghilterra, non hanno questo parametro, Israele, e sono Paesi impegnati in prima linea, o Paesi come la Germania, lo hanno un limite, ma è assai, assai più basso di noi, peraltro avendo una popolazione con un'altezza media ben superiore, la dice lunga su quanto noi siamo arretrati da questo punto di vista. E dispiace che nella scorsa legislatura non siamo riusciti a fare la legislativa, e anche in questa legislatura, proprio da parte del collega del PD, Fiano, che peraltro avrebbe potuto vantare una collega del suo partito come prima presentatrice nella scorsa legislatura, e un'approvazione al Senato venuta in maniera sostanzialmente unanime, e non si capisce oggettivamente perché si voglia perdere ulteriormente tempo. Certo, esiste anche una resistenza in alcuni componenti di anziani generali, di Stati maggiori, che ragionano in maniera ancora antiquata, non rendendosi conto dei diritti, ma soprattutto della convenienza oggettiva per le Forze Armate. Allora io credo che questo parametro sia stato assolutamente una negazione della possibilità di tante persone che non è che cercavano un impiego, ma amavano le Forze Armate, amavano difendere la patria, così come la Costituzione anche insegna. E peraltro ci sono anche tante persone, tanti giovani, che hanno frequentato le scuole militari, penso a tante ragazze, e poi dopo tre anni di scuola militare, nei licei, non per mezzo centimetro, per un centimetro, pur essendo ragazze perfettamente sane, idonee alla vita militare, magari con tre anni alle spalle di vita militare nelle scuole militari, e atletiche e sportive, non possono accedere a un concorso. Ma così come tantissimi altri giovani che in questi anni hanno chiesto ripetutamente una visione moderna di questo problema. Voglio anche ricordare che l'Italia non è sempre stata così antimoderna come in questi anni, perché quando c'era il servizio di leva il limite di altezza era un metro e cinquanta. Allora non si comprende perché un giovane è idoneo a fare il servizio militare e a rischiare magari la vita per la patria nel caso di guerra, e poi non è idoneo se vuole fare il servizio militare di professione. O uno è idoneo o non è idoneo. Questo ci dovrebbe spiegare il Capo di Stato Maggiore della Difesa, che manda note per la verità assai improprie, e questo la dice lunga anche del livello della nostra civiltà parlamentare, che l'esecutivo, dopo una lunga e approfondita indagine della Camera, dopo che un ramo del Parlamento ha approvato una legge, viene fuori il Capo di Stato Maggiore della Difesa, che scrive una lettera che non si capisce veramente che natura ha anche sul piano giuridico. Io penso che su questo anche il Governo dovrebbe domandarsi, perché è veramente irrituale che non sia il Ministro della Difesa, un sottosegretario, ma un Capo di Stato Maggiore che scrive ai parlamentari. Una cosa inaudita rispetto al quale, secondo me, bisognerebbe riflettere, e invito il sottosegretario presente a riflettere anche la luce del codice di disciplina militare, per verificare se questa lettera possa o meno essere una lettera ammissibile. Concludo il mio ragionamento. Questa norma ormai va avanti perché è una norma logica, rispetta i cittadini, rispetta il principio di uguaglianza, se perché una persona è sana, è preparata, ha tutti i requisiti in regola di una forza, di una capacità atletica, parametri fisici proporzionati, una massa muscolare adeguata ad affrontare gli sforzi fisici, e così come avviene in tutti gli altri Paesi che, dal punto di vista meditale, sono anche impegnati e più impegnati di noi, non vediamo proprio perché possono essere esclusi da questi concorsi, dove, peraltro, ci sono prove fisiche dove uno può anche dimostrare o non dimostrare la propria capacità. Finalmente si è arrivato in aula, si poteva fare assai prima, non c'è dubbio, ma l'importante è che la cosa è stata fatta, che il Parlamento oggi si appresta a varare, penso con la stessa larga maggioranza del Senato, una norma che però pesa anche sui tempi, e in questo volevo invitare i colleghi. Ormai, già dalla scorsa legislatura, sostanzialmente, eravamo d'accordo tutti, così come lo siamo stati nelle commissioni, anche in questo anno e mezzo in cui ne abbiamo discusso. Però, come è stato segnalato da un altro collega che ha parlato prima di me, ci sono anche poi i limiti d'età. Ogni mese che passa persone non possono più concorrere perché superano i limiti d'età. E per carità, quel limite ha anche delle esigenze diverse che io condivido. Ma il punto è un altro. Se noi perdiamo tempo in chiacchiere, quando tutti siamo d'accordo, e non si approva nei tempi previsti, ma si continua a fare melina, non si capisce veramente che fiducia poi i cittadini debbono avere nelle istituzioni. Allora io, quello che prego, insomma, è un invito al Parlamento, una rapida approvazione, senza modifiche, per evitare che il meccanismo della navetta parlamentare ci possa far perdere ulteriormente tempo, e condannare tantissimi giovani che sono ormai da anni, che aspettano questa legge, a non partecipare perché nel frattempo hanno superato i limiti d'età. Credo che sia un impegno serio, di diritto, di civiltà e di eguaglianza. E noi abbiamo il dovere, il diritto di difendere quei tanti giovani che vogliono servire la patria in uniforme, in divisa, e vogliono non fare semplicemente una professione, ma abbracciare uno stile di vita nella quale hanno sempre creduto, nel quale sperano di poter realizzare la propria persona. La ringrazio. Adesso il collega Piras. Prego. Grazie, Presidente. Lei mi dovrà consentire, anche se mi rendo conto che non c'entra nulla con l'ordine del giorno, ma mi riprometto di arrivarci rapidamente, di dedicare almeno un minuto in quest'Aula, a quello che è successo oggi in Palestina, cioè all'assassinio brutale del Ministro Ziyad Abouain, e a ricordare quello che sta succedendo in quella terra. Io credo che questo sia un ennesimo atto di barbarie, così l'ha definito il Presidente Abou Mazen, così probabilmente tutta l'Aula dovrebbe definirlo. Ed è anche grazie